Un festival dedicato allo sport, Battiti Festival e soprattutto un festival dedicato alla cultura e alla filosofia dello sport. In queste tre giornate, partendo da giovedì sera alle ore 20 circa, ci sarà l'inaugurazione, l'apertura del festival e quindi la presentazione da parte delle istituzioni. Subito dopo l'apertura ci sarà la presentazione della VL Carpegna Prosciutti Pesaro e quindi ci sarà la presentazione della squadra 2023-2024 alla città. Quando sarà finita la presentazione della VL a città, naturalmente non sarà finita la serata, ma poi ci saranno degli ospiti dopo la VL. Uno di questi sarà Andrea Lanfri, che è uno scalatore, un ragazzo che ha subito un'amputazione delle gambe di sette dita delle mani, causa una meningite acuta e si è riabilitato per ritornare alla vita normale e non solo perché in queste condizioni, con delle protesi alle gambe, è andato a scalare l'Everest. Tutto poi proseguirà venerdì 22, alla mattina ci sarà ospite al Parco Mirella Fiore, il liceo scientifico Marconi in diritto sportivo, dove i ragazzi presenteranno delle attività, ma faranno anche delle lezioni abbinando lo sport alla cultura, lo sport al giornalismo. E poi passeremo al pomeriggio, dove dalle 16 inizieranno degli spicce, un po' vari, che vanno da quello che possa essere lo sport a quello che possono essere magari dei servizi per lo sport. E in più ci saranno sia il venerdì che il sabato le associazioni sportive e le palestre che saranno presenti lì per presentarsi alla città, tutti quelli che passeranno per il festival. Poi si proseguirà il sabato, più o meno, con un programma come quello del venerdì che partirà alle 16 e si concluderà sia il venerdì che il sabato attorno alle 23, anche qui con ospiti importanti, è giusto per fare alcuni nomi, ci sarà Paolo Viverti che è un giornalista, uno scrittore, uno che ha seguito Giri d'Italia, Tour de France e Olimpiadi. Ci sarà Adriano Malori, un ex ciclista professionista, anche lui che viene da una storia particolare. Quindi capite come all'interno di questi tre giorni noi vogliamo portare esperienze di sport, esperienze di vita e esperienze di come vivere il ciclismo oppure lo sport a 360 gradi. Ci saranno poi due atleti che fanno sport ultra cycling proprio per portare esperienze di persone che vivono lo sport, per dire giorno e notte, cercando di fare imprese che non sono imprese per vincere una gara o imprese per vincere una partita, ma sono imprese per loro stesse, imprese che poi vogliono condividere con tante persone per portare un messaggio, un messaggio che possa essere motivazionale, un messaggio di crescita, un messaggio culturale e un messaggio di condivisione di queste esperienze, che sono esperienze che loro vivono per loro, per la loro famiglia, ma per tutte quelle persone che poi li seguono. Alla fine chiuderemo il festival la domenica mattina dove la Croce Rossa organizzerà una campestre e noi come Fisorati Medical Center organizzeremo una pedalata, una pedalata di un paio d'ore, aperta a tutti, non agonistica, solo per ospiti, quindi chi voglia partecipare si può iscrivere da prima del festival o durante il festival allo stand di Fisorati Medical Center e poi chiuderemo al rientro della pedalata con un buffet e un bicchiere di birra e il festival verrà chiuso alle ore 12, visto che 24 settembre è San Terenzio con il saluto del Vescovo di Pesaro. L'ingresso è aperto a tutti ed è tutto gratuito, quindi potete arrivare direttamente lì senza prenotazione, senza niente, potete accedere a qualsiasi speech. e l'unica cosa, come ho già detto, bisogna iscriversi per chi volesse partecipare alla campestre o per chi volesse partecipare alla pedalata.